Ciao, mi chiamo Theodor, ho fatto il corso di modelleria nell'aristruttore e mi hanno dato la possibilità di fare un corso di industrializzazione e dunque di imparare le basi di tutte le fabbricazioni di scarpe a donna. Sono molto contento. Sono Michael, ho partecipato a questo corso per avere una visione più completa della calzatura e devo dire che ad oggi sono molto soddisfatto. Abbiamo parlato di teoria, di tutto, delle nuove tecnologie, delle nuove metodologie e anche quelle tradizionali per trovare il connubio ideale tra tradizione e innovazione. Ciao, sono Vicenzi, questo corso mi è stato offerto dalle scuole Arts Tutorial per approfondire la mia passione per le scarpe. Abbiamo fatto con l'azienda Atom una parte di taglio, abbiamo imparato a farlo a mano e anche con la nuova tecnologia, tutte le macchine. Grazie. Ciao. 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 perché abbiamo visto bellissimi fornitori, abbiamo visto una visione del futuro tecnologica con il Micam, con le nuove macchine. Ho scelto di fare questo corso perché, dati i miei studi in moda, ho deciso di approfondire anche il mondo della calzatura e ho riscontrato molto interesse nella fase della realizzazione del prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.